Martedì 5 gennaio vediamo insieme i titoli del nostro telegiornale. Vaccini senza sosta a Marche Nord fino a 400 punture al giorno nel presidio di Muraglia. Le telecamere di Fano TV all'interno del padiglione 3 per vedere tutte le fasi della procedura. Il governatore Francesco Acquaroglia ha firmato l'ordinanza per le scuole superiori didattica a distanza fino al 31 gennaio. A Dancona si tindi proteste polemiche sui social per la decisione della giunta. Mirko Carloni risponde alle critiche e dobbiamo diminuire la curva dei contagi. Rimane alto il numero di vittime nelle Marche per coronavirus. In aumento i ricoveri e quasi 500 nuovi contagi. Pesaro Urbino è la provincia più colpita. Intanto la regione proroga l'accordo per i covid hotel. Fano piange la scomparsa di Paolo Guerriere, un uomo speciale benvoluto da tutti. Venerdì i funerali nella chiesa del Vallato. Ciclovia sul Metauro. Baldelli annuncia il nuovo tracciato. Alvia il confronto con i sindaci di Fano, Cartocetto e Colli al Metauro. La Befana entra nelle case dei fanisi. Domani su Fano TV l'evento che terrà compagnia famiglie e bambini con musica e canti provenienti da tutto il mondo. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Questa sera apriamo il nostro telegiornale con le vaccinazioni per i dipendenti dell'azienda ospedaliera Marche Nord. Questa mattina Angelica Panziere ha incontrato il direttore sanitario Berselli e quello della farmacia Mauro Mancini per capire come funziona e come sta procedendo questa campagna vaccinale. Guardate. Siamo all'ospedale di Muraglia. Questa mattina siamo venuti a vedere come procede l'organizzazione della vaccinazione ai dipendenti di Marche Nord. La macchina organizzativa con cui è stata predisposta la vaccinazione per gli oltre 2200 dipendenti di Marche Nord funziona perfettamente. Tutto si sta svolgendo in modo ordinato in un'ala del padiglione 3 all'ospedale di Muraglia. E' qui che dal 27 dicembre scorso stanno procedendo senza sosta tutte le operazioni vaccinali per i sanitari. Ad illustrare l'organizzazione quasi militaresca con cui entro febbraio verranno vaccinati quasi tutti i dipendenti è il direttore sanitario dell'ospedale Marche Nord, Edoardo Berselli. Il giorno 31 abbiamo cominciato per tararci a vaccinare 140 dipendenti. Abbiamo fatti equamente distribuiti su Pesaro e su Fano, 144 per la precisione. Dal giorno 2 non ci siamo fermati mai neanche con i festivi, sempre con numeri incrementali. Già il giorno 2 ne abbiamo fatti 150, poi abbiamo cambiato la sede spostandoci da Pesaro a Fano facendo una sede unica che è questa e questo ci ha permesso ancora più di velocizzare il numero di vaccinazioni. Nei giorni feriali ne facciamo circa 200 al giorno, nei giorni festivi raddoppiamo e facciamo più di 400 vaccinazioni al giorno. Le vaccinazioni vengono preparate tutte dalla farmacia di modo che abbiamo garanzia di efficienza, sterilità e produttività. Abbiamo già vaccinato più di 700 dipendenti, non ci sono state reazioni allergiche gravi, assolutamente non abbiamo avuto nessun problema e così continuiamo. Con il giorno 6 dovremo chiudere il primo giro di tutti i dipendenti che hanno dato l'adesione e faremo poi un'altra ulteriore data di recall verso la fine del mese di febbraio. Questo perché non tutti i dipendenti sono stati raggiunti e molti che avevano dato una non adesione all'inizio un po' sollecitati dai colleghi, un po' visto che non sta succedendo niente di male, ma anzi è l'unica arma che abbiamo in questo momento per difenderci, stanno dando le adesioni. Nei confronti di quelli che non intenderanno vaccinarsi verrà preso qualche provvedimento, se ce ne sarà qualcuno come è emerso nei giorni scorsi? Allora, provvedimenti non se ne possono prendere perché la scelta di vaccinarsi è una scelta libera. Ovviamente per un sanitario è un po' un fallimento se qualcuno non vuole vaccinarsi. Ci saranno delle limitazioni fisiologiche, poi ci sono alcune categorie che per forza, perché non tutti possono essere vaccinati, qualcuno che ha patologie per le quali non può essere vaccinato, quello è escluso dalla vaccinazione, ma è l'unica categoria a mio giudizio giustificata e quelli avranno percorsi protetti. La trafila da seguire non è poi così complicata. All'ingresso del corridoio il dipendente che deve sottoporsi alla vaccinazione stacca il numerino saltacode e si mette in fila. Una volta arrivato nel punto di accoglienza viene chiamato a leggere il modulo del consenso informativo. Qui sono elencate anche le indicazioni e controindicazioni alla vaccinazione. Dal momento che il dipendente deciderà di firmare l'accettazione, passerà al colloquio con i medici che avranno la responsabilità di valutare l'opportunità della vaccinazione. I vaccini vengono ritirati ogni mattina al magazzino Asur di Fossombrone da un addetto dell'ospedale che si presenta con un furgoncino per il ritiro, il quale mantiene la temperatura a meno 80 gradi. Una volta arrivate in ospedale le confezioni protette da una scorta di vigilantes armati vengono controllate rispetto al corretto ciclo del freddo, stoccate in frigorifero e sorvegliate 24 ore su 24 fino al momento della somministrazione. Una volta aperto il farmaco viene portato a temperatura ambiente e diluito con una soluzione fisiologica per essere poi utilizzato nelle sei ore successive. Da ogni fiala vengono estratte sei dosi. Con Mauro Mancini, direttore della farmacia ospedaliera, abbiamo potuto vedere nel dettaglio tutte le fasi della procedura. Qui ogni mattina arrivano i vaccini che sono debitamente tenuti in custodia. Adesso andiamo nella parte di preparazione. La temperatura di controllo dei vaccini è strettamente monitorata da un datalogger che inseriamo nel contenitore che viaggia in un furgone frigo. Quindi se ha rispettato la catena del freddo stringente, 2-8 gradi, è pronto per la lavorazione. Qui avviene l'anamnesi dei vaccinati. Il medico verifica che la persona è pronta per essere vaccinata, quindi facendo un'anamnesi del suo pregresso, se ha allergie, tutto quello che può essere utile in questo senso, c'è un consenso informato da firmare. La parte burocratico viene fatta qui. Una volta terminata, accede direttamente all'ambulatorio di vaccinazione. Qui siamo nell'ambulatorio di vaccinazione. Qui siamo nell'ambulatorio di vaccinazione. Qui le fiale che sono state appena portate dalla preparazione vengono preparate, inserito l'ago e pronte per essere somministrate. La persona è stata vaccinata, attende 15-20 minuti per verificare che la vaccinazione sia andata a posto e quindi non abbia nessun effetto collaterale. Dopo 20 minuti la persona viene mandata a casa o al lavoro, dipende da quello che deve fare. Il vaccinato, in tempo reale, i suoi dati vengono trasmessi al Ministero, che gli richiede l'anagrafe vaccinale con tutte le specifiche. Dove, quando, come, lotto del vaccino, anche il luogo dove viene iniettato. Quindi deltoide del braccio destro e del braccio sinistro. Oltre alla totale sicurezza e anche dal punto di vista sterile, vengono mantenute tutte le procedure di norme di buona preparazione sterili che dice la farmacopoeia ufficiale. E questa è una cosa importantissima. Ed è uno standard qualitativo che Marche Nord puntualizza e noi puntualizziamo ogni giorno. Anche nella preparazione dei chemioterapici. E si aggrava di 13 vittime il bilancio regionale dei decessi legati al coronavirus. Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita anche 7 persone residenti nella provincia pesarese. Avevano tutti patologie pregressi. I positivi invece sono 458. 127 in provincia di Pesaro Urbino. Negli ospedali della regione ci sono 560 ricoveri. Resta invariato il numero di pazienti in terapia intensiva ma aumentano i degenti in semi-intensiva. Più 12 rispetto a ieri. Ed è stato prorogato al 31 di gennaio l'accordo per i due covid hotel attivi nelle Marche. Lo rende noto l'assessore regionale alla protezione civile Stefano Guzzi. Dopo l'approvazione del provvedimento in giunta, le due strutture a Senigallia e a Monte Cassano in provincia di Macerata accolgono i cittadini risultati positivi al covid che non necessitano di cura ospedaliere e che non hanno a casa degli spazi adeguati per la quarantena. Il presidente della regione Marche ha firmato l'ordinanza per la didattica a distanza nelle scuole superiori fino alla fine del mese. Arriba a dire l'importanza del provvedimento è il vicepresidente Mirko Carloni che in queste ore è stato attaccato ma che oggi si difende così. Limitare la terza ondata di contagio ed evitare di tornare in zona rossa. Con questi obiettivi il governatore delle Marche Francesco Acquaroli ha firmato un'ordinanza per disporre il 100% delle elezioni a distanza per le scuole superiori fino al prossimo 31 gennaio. Una decisione anticipata ieri dal suo vice Mirko Carloni tramite un post sul profilo Facebook che ha scatenato critiche e commenti da parte di alcuni genitori e di chi non condivide il provvedimento. Oggi l'assessore ha deciso di far chiarezza partendo dalla conferenza Stato-Regioni durante la quale sono stati ridotti gli indici RT. All'1% si entra in zona arancione mentre all'1,25% in zona rossa. Una instabilità, ha detto Carloni, che sta creando molti problemi oltre ai ristori per le attività chiuse è necessario che non si cambino le regole del gioco ogni due settimane. Più che una preoccupazione è una certezza. I contagi stanno aumentando ma soprattutto quello che aumenta con questa nuova variante inglese come è stata chiamata è la contagiosità del virus e quindi c'è la possibilità che i nostri ospedali vadano sotto pressione. Il nostro impegno è stato sin dal primo momento la prevenzione. Con lo screening di massa abbiamo messo a disposizione centinaia di migliaia di tamponi gratuiti alla popolazione per farsi controllare perché è l'unico modo per prevenire i contagi e fare in modo che chi è asintomatico lo sappia e si ripari a casa senza incontrare altre persone. Contemporaneamente stiamo cercando di rafforzare tutti i nostri ospedali. L'assessore Saltamartini sta facendo un grande lavoro e Pesaro per esempio ieri aveva 20 persone in terapia intensiva, oggi apre ulteriori posti letto quindi gli ospedali stanno tenendo però è anche vero che la pressione sugli ospedali nell'ultima settimana è aumentata. Dobbiamo fare in modo, prosegue l'assessore, che venga garantita l'adeguatezza dei posti letto e delle prestazioni per chi si ammala ma d'altra parte non possiamo far aumentare i contagi anche per i danni provocati all'economia. Che cosa risponde a chi critica questa scelta adottata sulle scuole? È assurdo e paradossale che mentre tu restringi tutto apri le scuole quindi rischiavamo di aprire le scuole il 7 e l'8 per poi richiudere tutto fra una settimana. Allora questo atteggiamento che è stato anche ideologico del ministro Azzolina noi non lo tolleriamo. In questo momento che gli ospedali stanno andando sotto pressione in questo momento in cui tante attività economiche, palestre, bar, ristoranti sono chiusi io credo che un sacrificio lo debbano fare tutti. Quale sarà il destino delle Marche da giovedì 7 gennaio? Allora in questo cambio continuo dei colori, degli indici, delle regole che un po' ci sta mettendo tutti in difficoltà il governo sta confezionando un decreto di cui abbiamo avuto oggi la bozza credo che verrà pubblicato tra stasera e domani. Comunque quello che possiamo dire è che sicuramente giovedì e venerdì saremo gialli e aspettiamo di capire se il sabato e la domenica invece saremo arancioni o rossi potrebbe da quelle ultime indischiazioni che noi abbiamo diventare le Marche Arancioni però ciononostante quello che per noi conta molto è riuscire a tenere la curva dei contagi bassa per poter riaprire prima possibile tutte le attività che in questo momento stanno patendo così come è molto importante poter rimandare a scuola i nostri ragazzi, tutti quanti però lo possiamo fare quando questa curva stia veramente abbassandosi. E contro l'ordinanza si sono schierati i membri del comitato priorità alla scuola riuniti in protesta davanti a Palazzo Raffaello a Dancona contraria al provvedimento anche la consigliera del PD Micaela Vitri che lo ha definito inconcepibile. Il servizio di Letizia Marchionni La scuola è un pilastro di questa Repubblica, è un pilastro della democrazia e noi non accettiamo che venga ridotta all'ultimo fanalino di coda di un treno sgangherato con un guidatore incapace Sittin di protesta questa mattina alle 11 quando docenti, famiglie e studenti aderenti al comitato priorità alla scuola si sono riuniti davanti a Palazzo Raffaello a Dancona sede della regione Marche per contestare la decisione del presidente Francesco Acquaroli di rinviare a febbraio la ripresa delle elezioni in presenza nelle scuole superiori. Riaprire le scuole è ciò che hanno chiesto a gran voce i manifestanti durante la protesta presidiata dalla Digos che è proseguita nonostante la pioggia al grido di scuole chiuse uguale giunta Acquaroli incapace, come recitava la scritta su uno striscione esposto davanti alla sede della regione e che si è conclusa con una convocazione dei manifestanti nel pomeriggio da parte del governatore Acquaroli. Anche la consigliera regionale Micaela Vitri si è detta contraria all'ordinanza, inconcepibile la decisione del governo Acquaroli sulla chiusura delle scuole superiori fino al 31 gennaio ha commentato. Non capisco perché altre regioni siano pronte al ritorno in aula ma non le Marche. I ragazzi non possono stare un anno senza andare a scuola e le Marche dovevano farsi trovare pronte il 7 gennaio come indicato dal governo per la didattica nelle scuole superiori al 50%. I problemi sono i trasporti e i controlli perché allora non siamo davvero attrezzati per garantire sicurezza nei trasporti. Ad esempio Lazio e Toscana hanno aumentato garantendo il trasporto in sicurezza il numero di bus con accordi grazie ai privati. Nel Lazio ci sono 600 bus in più, nella Toscana 330 bus in più e quindi viene garantita sicurezza. Dovevamo farci trovare pronti ed è possibile ora tornare eventualmente in classe anche grazie ai tamponi che possono essere effettuati ad esempio nelle palestre e permettere ai giovani di tornare in sicurezza. Quindi ritengo inconcepibile se la scuola deve essere una priorità farla slittare al 31 gennaio proprio nelle stesse regioni che invece chiedono di aprire gli impianti sciistici. Per me è inconcepibile, la scuola deve essere una priorità e deve essere garantita la didattica in presenza almeno al 50%. La città di Fano piange la scomparsa di Paolo Guerrieri morto all'età di 74 anni. Conosciuto e ben voluto da tutti, Paolo abitava al Vallato ma aveva frequentato sin da piccolo il quartiere di Sant'Orso, dalla parrocchia ai comitati ai gruppi giovanili. Era una persona umile e gioiosa che non dimenticheremo, si legge in uno dei tanti commenti pubblicati sui social. Lo conoscevo dall'età di 10 anni, ci ha raccontato invece l'ex presidente della carnivalesca Luciano Cecchini. Era speciale, affidabile e buono. Lo coinvolgevamo in tutte le iniziative come legite in montagna. Questa, ci ha spiegato Luciano, è una delle ultime foto di gruppo scattata nel 2019. I funerali di guerrieri si terranno venerdì alle ore 9 nella chiesa di San Paolo Apostolo. E adesso parliamo di maltrattamenti in famiglia. Gli investigatori della squadra mobile hanno eseguito un'ordinanza che dispone l'allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento alla parte offesa emessa dal GIP del Tribunale di Pesaro. Le indagini sono partite dalla denuncia di una donna che ha trovato la forza di reagire alle violenze fisiche e psicologiche che subiva da diversi anni. Il rapporto coniugale era ancora più complesso a causa della dipendenza dalle sostanze stupefacenti. Se l'uomo non rispetterà l'ordinanza verranno applicate misure più gravi fino alla custodia cautelare in carcere. Troppo comodo accusare quando è evidente il fallimento del reddito di cittadinanza. Così l'assessora welfare del comune di Fano Dimitri Tinti che risponde alle accuse degli esponenti grillini sulla mancata attivazione dei progetti di impiego dei percettori di reddito di cittadinanza. Secondo Tinti la causa che ne ha rallentato la partenza è l'inadeguatezza della piattaforma Gepi ancora ferma dal 12 settembre 2019. È impossibile spiegatinti estrapolare i dati per capire se i beneficiari siano esonerati o meno dallo svolgimento delle ore di lavoro oltre alla difficoltà nella convocazione di queste persone. Con tre parlamentari di Fano conclude l'assessore il Movimento 5 Stelle avrebbe dovuto fare di più e meglio. La nuova ipotesi progettuale della ciclovia sul Metauro è pronta. L'assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli ha già programmato le consultazioni con i sindaci di Fano, Cartoceto e Colle al Metauro per condividere il nuovo percorso ed eventualmente apportare modifiche migliorative. Abbiamo elaborato in poche settimane un nuovo tracciato da sottoporre all'attenzione dei sindaci coinvolti spiega l'assessore Baldelli. Abbiamo recuperato il ritardo accumulato dalla precedente amministrazione regionale che dopo aver ricevuto ben due pareri negativi alla sua progettazione era rimasta con le mani in mano. Dunque è superata la fase di confronto con i comuni conclude Baldelli. Procederemo all'affidamento del progetto definitivo per poi applicare la procedura dell'appalto. Il costo dei lavori è di 4 milioni e 500 mila euro già finanziati. Adesso parliamo dell'epifania perché a causa dell'emergenza sanitaria domani non ci sarà il tradizionale appuntamento con la Befane in piazza 20 settembre a Fano ma il comune ha organizzato una iniziativa che trasmetteremo in diretta sul canale 17 di Fano TV. I particolari nel servizio di Filippo Pucci. L'epifania tutte le feste porta via e come concludere queste giornate di festività natalizie con il momento più dolce con l'arrivo della Befana? Eh sì, visto il periodo la vecchina quest'anno entrerà nelle case dei fanesi attraverso lo schermo del cellulare e del televisore tenendo compagnia bambini e famiglie tramite una diretta su Fano TV e sui canali social del comune. La Befana che tutti gli anni calcava il palco di questa piazza affollata con tanti bambini che venivano a ritirare le calze purtroppo non ci potrà essere ma ci sarà in video così insomma lei racconterà dei momenti carini, degli spettacoli dove saranno coinvolti i bambini e sarà coinvolto anche un altro spettacolo molto interessante e quindi tutto da vedere. Ma io devo ringraziare in modo particolare tutte le associazioni, le realtà dello spettacolo, le attività economiche, i privati cittadini che in un qualche modo hanno avuto questa propensione a dare un supporto all'amministrazione e quindi abbiamo organizzato insieme una serie di attività. A partire dalle ore 21 i più piccoli si immergeranno in un mix tra divertimento e celebrazione per poi approfondire il significato dell'Epifania attraverso musiche e canti provenienti da tutto il mondo. L'ultimo appuntamento del Natale più il Natale istituzionale del comune di Fano si congiunge con il quarto concerto della terza edizione di Via del Canto, un festival di musiche dal mondo al quale la nostra amministrazione e questo comune tiene molto. È un appuntamento dedicato all'Epifania, si terrà un concerto con il quartetto vocale Cantus Anime accompagnato da due attori Giulia Bellucci e Jacopo Mariotti e una parte dell'orchestra sinfonica Rossini. Tutto questo all'interno del Teatro della Fortuna e streaming. Prima di questo concerto ci sarà l'anticipo che durerà solo 5 minuti di un saluto da parte dell'associazione Un Coro fra le note, dei cori dei più piccoli che quest'anno hanno potuto tenere il loro concorso nazionale e internazionale e quindi vogliamo ringraziare come amministrazione e anche la direttrice Stefania Bernabucci per portare a lietare questa epifania anche con la loro presenza. Dunque niente festeggiamenti in piazza 20 settembre per quest'anno ma la Befana tornerà il prossimo 6 gennaio in sella alla sua scopa volante a consegnare le calze piene di dolci sperando non ci sia anche un po' di carbone. Un gesto di gentilezza nei confronti dei bambini e delle persone disabili. I circoli anziani di Fano hanno teso la mano verso le famiglie più fragili donando circa 200 calze piene di dolciumi in vista della festa della Befana. L'iniziativa gestita dalla Proloco di Fano insieme ai circoli anziani della città rientra nell'ambito del progetto di promozione e longevità sostenuto dal Comune. Adesso una comunicazione perché Società Autostrade comunica che dalle 23 di venerdì 8 gennaio alle 3 di sabato 9 gennaio il casello in uscita della 14 per coloro che provengono da Bologna rimarrà chiuso. Autostrade infatti dovrà eseguire dei lavori di riprissino di una delle corsie a causa di un incidente avvenuto nei giorni scorsi. E con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato al bilancio della CNA di Pesero Rubino. Quindi io vi auguro una buona serata con i nostri programmi. Arrivederci.